Lunedì 8 gennaio 2018 Ben trovati, primo appuntamento della settimana con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa per la lettura insieme dei giornali oggi in edicola. Come sempre iniziamo partendo proprio dai quotidiani abruzzesi, dalle prime pagine del centro. Iniziamo con l'edizione di Pescara del quotidiano abruzzese che ovviamente rivolge il titolo principale alla scomparsa del presidente della Camera di Commercio di Pescara Chieti, Daniele Becci, corteo per l'ultimo saluto a Becci. Ecco il titolo di apertura dell'edizione di oggi. Pescara alle 15, i funerali del presidente della Camera di Commercio. In tanti hanno nella giornata di ieri visitato la Camera Ardente presso la sala Camplone della Camera di Commercio di Pescara. Vi avevamo proposto ieri nel corso delle nostre trasmissioni sportive anche un servizio proprio sul saluto dei pescaresi ma anche di tanti abruzzesi al presidente Becci. E poi vediamo la foto a centro pagina. Pescara scattano le prime misure, niente auto in città. Tornano le domeniche a piedi per ridurre lo smog. E poi le cronache, ladri in palestra, le telecamere riprendono tutto, è accaduto in un vialago isoletta. E poi nella zona Colli dissuasori per le strade pericolose. E poi Mattarella venga il 18 a Rigopiano, lo dicono i parenti delle vittime della tragedia dell'hotel Rigopiano. Il 18 gennaio sarà il giorno del ricordo perché sarà trascorso esattamente un anno da questa tragedia che, come molti di voi ricorderanno, fece 29 vittime. Cambiando argomento, arrivano in Abruzzo i rifiuti di Roma. 100.000 tonnellate a Sulmona, Aielli e Chieti, operazione che frutta 13 milioni di euro. E poi in basso si parla di sport, di calcio del Pescara in questo caso, con l'intervista al presidente della formazione Bianca Azzura, Daniele Sebastiani, che dice non più di tre rinforzi prima le uscite, poi rifiniremo l'organico. E poi all'interno del giornale vedremo nel dettaglio le dichiarazioni del massimo dirigente adriatico. Siamo all'edizione di Chieti, Lanciano Vasto del centro, trattoria derubata quattro volte, raffica di furti a Vasto, appello dei negozianti. Al prefetto ora basta. E poi a Chieti il comune paga l'indennità extra a cinque dirigenti. A Lanciano l'ex magistrale da abbattere. Passa il progetto sempre a Chieti. La Madonna nigeriana grata per il presepe in basso, in questo caso c'è il richiamo allo sport che riguarda le formazioni teatine della provincia di Chieti. Il Chieti, il campionato di eccellenza, vince ancora in rimonta in Serie D. La Vastese affonda in casa, quattro gol del San Marino allo stadio Aragona. Andiamo a vedere anche la prima pagina del centro, edizione di Teramo. La cronaca nel titolo di apertura, minacce alla ex nei mazzi di fiori, Teramano agli arresti domiciliari, nelle rose. Messaggi inquietanti. E poi la tragedia di Roseto in 2000 per l'addio al 18enne investito ed ucciso. A Giulianova, condominio Orsini 63, verso l'evacuazione. A Martinsicuro, Pitbull, a Zanna un bimbo, inchiesta a Teramo. Tornando a Giulianova, partono invece i lavori per riaprire via Bindi, lo sport, con un finale amarissimo per Roseto, che è stata abbattuta negli ultimi secondi in casa da Verona. Davvero una sconfitta sfortunata per i biancazzurri. E andiamo a vedere anche l'edizione di L'Aquila-Vezzano sul Mona del centro. Il titolo principale riguarda proprio l'arrivo di rifiuti dalla capitale. Da Roma 100.000 tonnellate di rifiuti sul Mona e Aiella, al centro del trasferimento, che frutterà, come abbiamo visto anche prima, 13 milioni di euro. In alto si parla dei biglietti della Lotteria Italia, perché la lotteria ha baciato anche la nostra regione. L'Abruzzo incassa, infatti, cinque premi da 20.000 euro. Uno di questi biglietti è stato venduto nell'autogrill San Groest dell'autostrada A14. Andiamo a vedere anche a centropagina la fotonotizia. Siamo a Sulmona, la città di Ovidio, invasa dai golosi del cioccolato e migliaia ad animare i tre giorni di festa. E poi l'Aquila-Gran Sasso, altri ritardi per la nuova seggiovia. Poi nella Marsica ad Avezzano, il comune salda il maxidebito per la discarica. E poi ancora l'Aquila con le maggio, festa degli scout nati nel 2009. E poi il calcio di serie D con l'Aquila e Avezzano, solo pari per le due formazioni. Rosso-Blu non sfondano a Castel di Lama con il Monticelli. Marsicani rimontati nel finale in casa della Iesina. Poi vedremo anche i servizi di tutte le partite che sono state giocate in serie D nella giornata di ieri. Ma concentriamoci sulla prima pagina del messaggero Abruzzo, l'edizione abruzzese del quotidiano Oggi in Edicola. La prima pagina, rifiuti di Roma verso l'Abruzzo. La parte indifferenziata potrà essere smaltita nelle discariche di Chieti e Sulmona. La delibera sarà discussa oggi in Giunta, ma si chiede che la Raggi dichiari l'emergenza. E poi vedete la Dea Bendata, Lotteria Italia nella regione. Solo le briciole della fortuna, alcuni biglietti da 20.000 euro. Ma è sempre, come si suol dire, meglio di niente. E poi Camera di Commercio. Vedete la sala Camplone dove è stata allestita da ieri mattina alle 10.30 la Camera Ardente. In ricordo del Presidente della Camera di Commercio di Pescara Chieti, Daniele Beci, un flusso continuo di persone. Tutta la giornata di ieri hanno reso omaggio a Daniele Beci. Oggi ci sarà la cerimonia funebre alle 15 nella chiesa di Sant'Antonio a Pescara. E poi la politica nel titolo di spalla. Forza Italia, Razzi attacca Gatti. Si sente un re, il senatore contro il collega di partito. Se ha coraggio si candidi nell'uninominale, dice il senatore Razzi. E poi a Giulianova, notizia curiosa. I ladri fuggono vestiti da sposa. In alto invece ci sono, come sempre e come ogni lunedì, richiami della pagina sportiva. In Serie B si parla del Pescara con un'intervista all'ex Biancazzurro Pasquato, che gioca nel campionato polacco. Pescara in A, discorso ancora aperto, dice l'ex Biancazzurro. In Serie C, Mercato del Teramo, condizionato dal caso Vicenza. In Serie D, l'impresa di ieri è stata quella del Pineto, che ha battuto la capolista matelica. L'Aquila, pareggio della volontà in casa del Monticelli. Crolla in casa, lavastese, con il San Marino. Andiamo a vedere ora l'edicola nazionale, i giornali nazionali che andiamo a seguire insieme. Ovviamente relativamente alle prime pagine. Partiamo dal Corriere della Sera, Lombardia. Maroni lascia il caso al vertice della coalizione di centrodestra, intesa antilegge Fornero. Patto tra Berlusconi, Salvini, Meloni e il quarto polo. Il governatore, in questo caso Maroni, punta a Roma. E poi vedete, mal tempo, soprattutto negli Stati Uniti. Mille voli cancellati per una tormenta di neve di tre giorni. E poi, in basso, si parla di calcio, i ribelli della VAR, ma così a cosa serve? Alcuni arbitri la utilizzano e altri no. L'ipotesi di un fronte di fischietti anti-tecnologia. E siamo al quotidiano Repubblica. Il caso Lombardia, Maroni si ritira. Abbiamo visto questo titolo anche pochi secondi fa sul Corriere della Sera. Cambio vita per la successione. Pronto Attilio Fontana, mentre Renzi punta sul sindaco di Bergamo. Centrodestra, l'accordo vale solo se si vince. E poi, il titolo con corredo di foto. Eccolo qui, vedete questi due soldati coreani che sono impegnati nel controllo del territorio al confine fra le due Coree perché iniziano domani i colloqui di pace fra le due Coree nel villaggio Fantasma al 38esimo parallelo, famoso 38esimo parallelo, dove c'è in pratica la linea di demarcazione di confine fra la Corea del Nord e la Corea del Sud. E anche su Repubblica, in prima pagina, troviamo la vicenda dei rifiuti romani che finiranno in Abruzzo. Una parte, ovviamente, di questi rifiuti. Ecco qui il titolo, l'Odissea dei rifiuti romani. Li spediranno in Abruzzo per poi bruciarli in Emilia. Questo è il titolo che Repubblica dedica a questa vicenda. Siamo alla prima pagina del messaggero nazionale. Anche qui, titolo dedicato all'emergenza rifiuti a Roma. Ora frena l'Abruzzo, ma dovrebbero arrivare una parte di questi rifiuti, come abbiamo visto anche dai titoli dei quotidiani locali. Vediamo un altro titolo che riguarda, in questo caso, dal messaggero La Politica. Centrodestra, nuovo patto di Arcore. Intesa Berlusconi, Salvini e Meloni. Sì, alla quarta gamba centrista. Revisione della Fornero. Maroni, niente bis in Lombardia. Lombra dell'incognita giudiziaria. Ipotesi Gasparri per il Lazio. E poi, vedete, New York paralizzata dalla neve. In Australia, caldo record, 47 gradi. Sono questi, diciamo, i due estremi del clima. Nevicate record, Stati Uniti e anche Spagna in ginocchio. Andiamo a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano. Anche Fazio e Vespa al voto. Da oggi la vigilanza decide sui due artisti in TV, in campagna elettorale. E siamo al mattino di Napoli. Patto ad Arcore via la Fornero. L'intesa Berlusconi, Salvini e Meloni. Sia i candidati centristi, solo se condivisi da tutti. E poi, la polemica. Vedete qui sul quotidiano napoletano. Qualcuno fermi calvarese. L'ultimo arbitro, Novar Calvarese, che vi ricordo, tra l'altro, è arbitro abruzzese di Teramo, che ha diretto nell'ultima giornata di campionato la gara Cagliari-Juventus. Dal quotidiano il mattino al tempo, altro quotidiano romano, ictus, infarti, femori e cesare. I migliori e peggiori ospedali. Questo è l'articolo del dossier curato dal quotidiano romano. Dal tempo al secolo d'Italia vince l'alleanza. Vedete nella foto la stretta di mano tra Berlusconi, Salvini e la Meloni. È stato siglato il patto in vista delle prossime elezioni. Vi ricordo che si andrà al voto il 4 marzo. E siamo al quotidiano di Torino, la stampa, centrodestra, il patto di governo. Anche qui ritroviamo il titolo principale che riguarda l'accordo in vista delle elezioni. Varata la coalizione per le elezioni, ci saranno quattro gambe. Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e centristi. E poi a centropagina, Iran. L'ora della repressione contro gli studenti. Oltre mille arresti. Giallo sull'ex presidente Akhmaninejad. Il rapporto ONU calpestati. I diritti umani. Siamo al sole 24 ore. Il quotidiano economico tratta ovviamente di tematiche proprio strettamente economiche. Si parla dei lavori in casa tutto bonus. Con il 2018 cambia infatti la mappa delle agevolazioni sugli interventi edilizi. Tutte le soluzioni. Caso per caso. E siamo al giornale. Centrodestra, Forza 4. Nasce l'alleanza. Accordo sul programma. Parte la corsa a Palazzo Chigi. Con il quarto polo. E dal quotidiano il giornale a Libero. Altro giornale di area centrodestra. Intervista all'arcivescovo di Ferrara. La Chiesa si è piegata all'Islam. E alla sinistra parla Monsignor Negri. Certo cattolicesimo è connivente con la società laicista e il pensiero unico dell'economia globalizzata che sui immigrati e temi etici strumentalizzano le parole del Papa. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dal vescovo di Ferrara, Monsignor Luigi Negri, al quotidiano Libero. E andiamo anche a vedere il quotidiano di Genova. Il secolo XIX. Elezioni in sfida aperta sul fisco. Il centrodestra meno tasse e via la legge Fornero. Grasso, leader del partito di sinistra, dice università gratis. Il secolo XIX. Il quotidiano genovese è l'ultimo giornale dell'edicola nazionale che abbiamo preso in esame. Possiamo tornare invece al quotidiano Il Centro e dunque a parlare di questioni di casa nostra. Ripartiamo da pagina 2. Si parla della Lotteria Italia. Abruzzo premiato con 100.000 euro perché sono stati 5 i biglietti da 20.000 euro dunque di terza categoria estratti nella nostra regione. Estratti tagliandi a Pescara, L'Aquila, Ortona e in due autogrill di Sarni di Rimpettai a Torino di Sangro. Pensate questa curiosità. Sono stati venduti nei due autogrill che si trovano uno di fronte all'altro sull'autostrada A14 proprio a Torino di Sangro due dei cinque biglietti che hanno permesso ai fortunati vincitori di portare a casa 20.000 euro. Questi due biglietti venduti sull'autostrada A14 e a Nagni invece la cittadina più fortunata d'Italia dove è stato estratto il biglietto da 5 milioni di euro ed è partita ovviamente la caccia al fortunato vincitore e noi invece parliamo di rifiuti. Da Roma 100.000 tonnellate di rifiuti nella nostra regione. Ritroviamo questo titolo che abbiamo visto anche su alcuni quotidiani nazionali. andranno sul Mona, Ielle e Chieti. Oggi la regione dà il via libera all'operazione che frutterà 13 milioni di euro. E in basso la Lega dice Regione Verde non una pattumiera, Bella Chioma e Giulianti insorgono ed Alessandro del PD chiede alla Raggi di ammettere il fallimento. Siamo a Pescara per la scomparsa del Presidente della Camera di Commercio di Pescara Chieti Daniele Becci che verrà salutato oggi dal capoluogo adriatico. Ci sarà anche un corteo per l'addio al feretro alle 14.45 arriverà dalla Camera di Commercio di Pescara dove è stata allestita la Camera Ardente in Viale Muzzi. Ci sarà un corteo da Viale Muzzi fino alla Chiesa di Sant'Antonio dove alle 15 ci saranno i funerali si terranno le esequie del Presidente della Camera di Commercio Pescara Chieti che era stato eletto lo scorso 29 dicembre e a tal proposito unire Pescara e Chieti il merito più grande Fasciani, il dirigente della Camera di Commercio dice ora le associazioni dovranno trovare un nuovo Presidente non sarà sicuramente semplice arrivare ad una scelta condivisa tanti ieri hanno visitato la Camera Ardente della Camera di Commercio di Pescara come detto ieri vi avevamo proposto un ampio servizio nel corso delle nostre trasmissioni sportive e tra gli altri ha visitato la Camera Ardente anche il Presidente della Giunta Regionale Luciano D'Alfonso che ha detto l'Abruzzo perde un grande uomo in basso le associazioni di categoria porteremo avanti le sue idee confesercenti grazie a lui supereremo i vecchi steccati Danelli di Commercio dice si è sempre speso per il territorio e poi piano contro l'inquinamento siamo sempre a Pescara domeniche a piedi per ridurre lo smog decisione d'urgenza degli assessori civitaresi di Carlo Allegrino allo studio anche isole pedonali e bus sulla strada parco e ai colli arrivano i dissuasori di velocità per le strade pericolose la cronaca ladrin palestra ripresi dalle telecamere due giovani sono entrati nella struttura di via Lago Isolette e hanno rubato un televisore la cassa non si è aperta e poi in basso Mattarella venga a Rigopiano i parenti delle vittime della tragedia di Rigopiano si sono riuniti per organizzare la cerimonia del 18 gennaio e poi in basso Spoltore Befano in campo Offredoni ai bambini siamo a Chieti alla pagina di Chieti del centro ma in questo caso a Vasto ennesimo colpo a Vasto Marina ristorante derubato quattro volte in 13 giorni e Di Lorenzo chiede l'intervento del prefetto a Vasto Chieti premi pagati ai dirigenti dopo tre anni l'ite in comune per le indennità extra i capi degli uffici minacciano di fare causa e il sindaco dice sì e poi il presepe di Chieti la Madonna nigeriana grata per il presepe la donna protagonista della rappresentazione si racconta vivo a Chieti da tre anni mi sento accolta siamo la pagina dell'Aquila verso il voto politiche grandi manovre per un posto a Roma anche tanti candidati aquilani dunque cercheranno di approdare in Parlamento PD di Benedetto e Fina Scaldoni Muscoli Perilli e Masciocco con Liberi uguali a destra Scalpita Liris Corridore Outsider Potere al Popolo Schiera Giannangeli dunque questi alcuni dei possibili e probabili candidati per la corsa al Parlamento Avezzano il Comune paga 100.000 euro all'Aciam per la discarica in basso Gran Sasso la riapertura slitta a febbraio vedete questo titolo l'Aquila il vento danneggia le coperture delle stazioni della Seggiovia mercoledì ci sarà un vertice in Comune dalla pagina dell'Aquila alla pagina di Teramo storie di violenza un nuovo caso a Teramo minacce alla ex con i mazzi di fiori 60enne Teramano agli arresti domiciliari dopo la denuncia della donna biglietti inquietanti con le rose e poi a Martinsicuro bimbo azzannato dal pitbull l'inchiesta passa a Teramo in basso la CISL si riorganizza sulla costa e in Val Vibrata Giancarlo De Sanclis e Alberico Maccioni nominati responsabili più attenzione dicono a sociale e lavoro e poi la tragedia di Roseto in 2000 ieri per l'ultimo saluto a Silvio il 18enne investito ed ucciso in chiesa la mamma si sente male i messaggi degli amici del liceo Saffo sarai sempre con noi vedete nelle foto quanta gente ha voluto salutare ieri per l'ultima volta Silvio Sorgentone sempre a Roseto macchina si ribalta in via Ungheria conducente ferito in basso siamo a Martinsicuro si tenta l'accordo con il Grillo centroaffari a Martinsicuro in comune trattative per evitare cause milionarie poi siamo a Giulianova Villa Pozzoni vandali al campo sportivo rotti lampioni sedie e tubi siamo arrivati allo sport scusate dobbiamo andare a vedere però le pagine del messaggero Abruzzo ripartiamo da Pescara e ovviamente il primo piano è l'addio a Becci uomo del fare l'omaggio di imprenditori politici e dipendenti alla Salma a visita della Camera Ardente in Camera di Commercio un intervento d'urgenza l'avrebbe forse salvato e l'ipotesi senza risposta da come leggiamo qui in questo sommario dell'articolo del messaggero all'Utic vani i disperati tentativi per recuperarlo ha saputo unire le associazioni il mondo delle imprese condivide il dolore dall'ex cofa la più grande amarezza il dirigente fasciani bello impegnativo lavorare con lui aperti giochi per la successione serve una guida forte e poi in comune assessorato nel mirino è stato scassinato l'ufficio dell'assessore Gianni Teodoro andiamo avanti siamo alle pagine dell'Aquila di Avezzano Surmona partiamo dall'Aquila feste salutari per il commercio ora non abbandonate il centro gli esercenti unanimi nell'evidenziare un aumento della clientela in questi giorni e poi Suor Gertrude fa cent'anni grande festa delle clarisse in monastero vedete la foto e poi la vergogna delle auto davanti alla Porta Santa i nuovi barbari come sono definiti in questa fotonotizia del messaggero e poi minacce a commercialista Aquilano ai domiciliari a Rimini seconda pagina in questo caso di Avezzano Sulmona si torna a parlare ancora della vicenda rifiuti Sulmona e Aielli la bomba dei rifiuti il Coggesa si è offerto di accogliere 30.000 tonnellate all'anno di pattume proveniente dalla capitale in difficoltà il sottosegretario la giunta regionale con delega l'ambiente Mario Mazzocca dice oggi vertice in regione per valutare la sostenibilità del piano e procedere eventualmente a sottoscrivere l'accordo siamo ad Avezzano Cesario nominato questore a Prato e poi Sulmona lotta che abbandona immondizia in strada tanto per rimanere alla notizia che riguarda i rifiuti di Roma e poi ancora Avezzano in questo caso si parla di politica la nuova mergheritina sbocciò nella Marsica con Alberto Tuccieri dovrebbe essere si parla della nuova mergheritina come simbolo della formazione centrista che correrà le prossime elezioni con il centro-sinistra capeggiata dall'uscente ministro alla sanità Beatrice Lorenzin Pescasseroli depuratori in campo WWF Pronatura e poi Ceglie le autostrade la ferrovia è peggio si parla dei problemi di comunicazione tra la costa adriatica e la marsica e la marsica e la capitale e a proposito della margheritina e del del nuovo partito della nuova formazione politica di centro-sinistra capeggiata dalla Lorenzin il ministro della sanità uscente sarà proprio venerdì sarà domani scusate anzi venerdì sarà ad Avezzano per partecipare ad alcuni eventi siamo alla pagina di Chieti del messaggero le opere d'arte restino in città appello ai vertici di Banca Teatina di primio il sindaco scrive alla dirigenza il comune è pronto ad offrire Palazzo Massangioli all'istituto di credito arriva pure la richiesta di sostenere le iniziative a carattere sociale da Chieti ci spostiamo a Vasto vedete il titolo di spalla la trattoria toscana ladri a caccia di patatine andiamo in basso per arrivare a Lanciano il PD in Pol di Corinto Vasto no della Amato si parla di elezioni mentre ad Ortona sociale e cultura lo sbando chieste le dimissioni di Daloiso lasciamo la pagina di Chieti del messaggero siamo a quella di Teramo dove infuria la polemica scusate politica all'interno del centrodestra ciclone razzi su gatti si sente il re della città ha detto il senatore la novità Bernardini e Cipolletti nelle parlamentarie del Movimento 5 Stelle Ginoble verso la conferma nel PD di Sabatino e di Marco outsider ma come vediamo nel centrodestra è polemica tra razzi e gatti con queste dichiarazioni del senatore nei confronti del leader del centrodestra Teramano stagione della Riccitelli domani a Teramo il violinista Milenkovic e poi andiamo a vedere altri titoli nella parte di spalla della pagina in Val Vibrata il Maxi Murales di Perilli in piazza la Befana ha portato una lettera per intitolare l'ospedale alla Pasqualone l'ospedale di Santomero e poi Giulianova giornata brutta e nebbiosa ma in via Sauro riecco l'isola pedonale in basso ancora a Giulianova ritroviamo questa notizia sicuramente originale la banda la banca del buco fugge banda del buco in questo caso fugge con 30 abiti da sposa svaliggiata nella notte la boutique di Francesca Pandoli bottino di 100.000 euro fuggiti i ladri con abiti da sposa siamo arrivati allo sport anche in questo caso e possiamo allora prima di lasciarci per qualche attimo possiamo iniziare brevemente per un paio di minuti a vedere le pagine che riguardano il Pescara prima sul messaggero e poi sul centro promozione discorso aperto lo dice Pasquato nell'intervista al quotidiano il messaggero il Pescara può farcela come Conoddo è partito con troppe novità ma adesso verrà fuori con un grande girone di ritorno e intanto Gans oggi firmerà con Lascoli Sebastiani il presidente Biancazzurro dice Pettinari resta andiamo a vedere anche sul centro come si parla del Pescara e lo fa a parlare il massimo dirigente adriatico non più di tre rinforzi dice Sebastiani l'obiettivo è sfoltire la rosa come vuole Zeman andiamo a vedere la pagina che riguarda il Pescara perché il calcio Biancazzurro è in lutto perché l'altro ieri è scomparso all'età di 80 anni scusate Antonio Valentino Angelillo gol dribbling e belle donne addio al re dei bomber Angelillo che aveva allenato il Pescara aveva vinto il campionato di serie B con la formazione Biancazzurro e anche la società Adriatica ha tributato un ricordo attraverso il sito ufficiale ad Antonio Valentino Angelillo vedete in basso come vi dicevo riportò il Pescara in serie A nel 1979 da brividi quello spareggio giocato al Dallara di Bologna di fronte a 40.000 spettatori dal Pescara di ieri a quello di oggi con l'intervista che il centro dedica al presidente Sebastiani pochi ritocchi serve sfoltire dice il presidente del Pescara Zeman è stato chiaro al massimo prenderemo tre giocatori Ganze dell'Ascoli del Sole dice il presidente del Pescara resta qui e dunque noi possiamo fermarci per qualche attimo poi torneremo in studio andiamo a vedere le previsioni del tempo poi seconda parte di mattino 6 tutta dedicata allo sport andremo a vedere i servizi delle gare di ieri in serie D di nuovo in studio seconda parte di mattino 6 siamo la pagina che riguarda la serie C il Teramo con l'intervista al centrocampista Amadio io il Teramo amore vero prima la salvezza poi l'assalto ai playoff asta mi piace Vivarini un maestro vorrei rimanere qui a lungo dice Amadio la gara di Savona ricorda il centrocampista bianco rosso è sempre nel mio cuore e poi in basso si parla invece del Lanciano in prima categoria Lanciano che sta dominando il campionato del grosso e la promozione Lanciano sei il mio orgoglio andiamo a vedere anche le altre pagine siamo alla serie D l'Aquila non sfonda pari e rimpianti il girone F ieri è tornato con la diciottesima giornata e a Monticelli scusate a Castel di Lama a campo neutro è stato pareggio senza reti tra Monticelli e l'Aquila con la formazione rosso-blu che ha attaccato e con il muro difensivo marchigiano che ha tenuto botta allora andiamo a vedere subito il primo servizio partiamo proprio dalla gara giocata a Castel di Lama Monticelli l'Aquila 0 a 0 il servizio di Stefano Reganati un pareggio giusto quella della prima giornata di ritorno tra Monticelli e l'Aquila al comunale di Castel di Lama con le squadre che hanno giocato una partita maschia e avviso aperto Monticelli rinforzato nel mercato di riparazione per dare una sterzata alla stagione aggregato al gruppo nelle ultime ore l'ex Martinsicuro e Francavilla Guido Galli subito in campo l'Aquila settima in classifica è una delle sorprese del campionato visto che la squadra di Battistini sta affrontando un ottimo campionato con una situazione societaria molto difficile torna a disposizione dopo lungo infortunio l'attaccante De Julis schierato subito dal mister Battistini al minuto 8 la prima conclusione della partita a tinte rosso-blu con Luci che dai 30 metri fa partire il destro che si spegne alto di poco subito risposta del Monticelli al decimo minuto con il numero 10 Margherita che si coordina in area di rigore ma la conclusione si perde alta al tredicesimo ancora Monticelli ancora con Margherita che va via al diretto avversario Aquilano crossa il centro ed esterno ma un importante intervento di esposito sbroglia tutto al diciottesimo ancora Monticelli ancora Margherita su punizione ma questa volta la mira dell'attaccante è imprecisa al ventiquattresimo occasione per la squadra di Battistini dalla destra Boldrini entra in area e di destro conclude a rete ma è super la risposta distinto del numero 1 di casa al ventottesimo ancora Boldrini il numero 10 dell'Aquila ci prova elude con una finta il difensore Biancazzurro e poi con il sinistro calcio in porta paratterra l'estremo di casa ma l'occasione di questo primo tempo più ghiotta capita al 35esimo sui piedi o meglio sulla testa di Galli l'ex Villa da azione di corner svetta solo in area ma non inquadra lo specchio della porta ripresa subito con un cambio per la squadra di casa con Cia Buschi che sostituisce Margherita il più pericoloso dei suoi nel primo tempo episodio Damo Viola al secondo minuto in area Monticelli Pupeschi calcio indisturbato con la palla che sbatte sul braccio del capitano Sosi prima di essere allontanata dall'area di rigore al 13esimo occasione per l'Aquila errato schema di fuorigioco della squadra di casa ne approfitta Padovani che sul più bello si incarta con il pallone nell'indecisione di calciare in porta o servire il compagno che arrivava da dietro al 16esimo Ibe rileva il rientrante De Julis buona la sua partita passa un minuto e lo stesso Ibe potrebbe portare in vantaggio gli abruzzesi ma sul tiro di Rucci la sua posizione è in fuorigioco al 29esimo occasione per l'Aquila cross dalla sinistra di Steri che attraversa tutta l'area di rigore raccoglie la sfera il nuovo entrato Bouchet che spara alto sulla traversa al 38esimo altre proteste per i ragazzi di Battistini Ibe entra in aria serve la corrente Boldrini ma il tiro viene ribattuto dal numero 11 Valoriani tra le timide proteste dei ragazzi Rosso-Blu si arriva così alla fine della partita e dopo 5 minuti di recupero l'albitro Daniele Cannata di Faenza decreta la fine della partita prossimo impegno dell'Aquila al Gran Sasso d'Italia contro la Vispesaro Questo è il servizio sulla gara Monticelli-L'Aquila facciamo un passo indietro andiamo a vedere anche sul messaggero cosa si dice del Teramo con il mercato in stand-by oggi ci sarà l'accelerazione per il trasferimento di Foggia alla Sicola-Leonzio poi bisognerà aspettare lo leggevamo anche prima cosa accadrà al Vicenza dunque mercato condizionato proprio da quello che sta accadendo in Veneto in basso si parla e si torna a parlare di Serie B lo facciamo anche noi con il San Nicolò San Nicolò che guadagna tre punti importanti ossigeno puro per la classifica dei biancazzurri vittoria sofferta con l'Agnonese esordio migliore sulla panchina teramana di Fabio Montani non poteva esserci davvero una vittoria importante per la formazione adriatica allora possiamo andare a vedere il servizio realizzato Dania Cantagalli è un esordio con vittoria quello di Fabio Montani sulla panchina del San Nicolò i biancazzurri si prendono lo scontro salvezza contro l'Olimpia agnonese grazie al gol del capitano Lino Petroni Montani all'incarico bis come allenatore del San Nicolò dopo l'esperienza non felice in eccellenza qualche stagione fa vara il 4-3-3 dovendo rinunciare agli infortunati mozzoni e chiacchiarelli è la squadra di Pino Di Meo però a partire meglio nessuna chiara occasione da gol ma una maggiore volontà di portarsi dalle parti di Cannella il San Nicolò si fa vedere al quarto d'ora di gioco con un'azione personale di Di Benedetto che però impegna solo centralmente Venturini la gara si accende intorno alla mezz'ora Giglio porta in vantaggio l'Agnonese in ripartenza ma il secondo assistente segnale la posizione di fuorigioco dell'attaccante e l'arbitro annulla il gol dei Molisani qualche istante dopo Bontà va in contrasto su Venturini in uscita la palla arriva a Di Benedetto che spara verso la porta trovando la testa di Fabrotta a negare il gol biancazzurro grandi proteste da parte della scuola di Dimeo che lamenta una presunta carica sul portiere dagli sviluppi del successivo calcio d'angolo Petronio porta avanti il San Nicolò ma in tribuna va in quel momento in scena un acceso scambio di vedute tra tifosi presenti sugli spalti con tanto di intervento poi della polizia a placare gli animi prima di tornare negli spogliatoi l'Agnonese cerca la via del pareggio prima con Abbonchelet servito sul primo palo da Neang con deviazioni però di poco fuori misura e poi ci prova Santoro con una girata di testa in area sulla quale però Neang non arriva in tempo sul secondo palo la ripresa si apre con un calcio di punizione battuto da Di Lollo che Cannella alza in angolo clamorosa invece l'occasione che ha poco dopo Giglio servito dalle retrovie beffe in velocità a difesa del San Nicolò ma invece di tirare in porta prova forse a servire Neang calibrando però malissimo il pallone i biancazzurri si fanno vedere per la prima volta dopo il quarto d'ora di gioco quando Tiboni fa sponda per bontà il cui tiro però si spegne fuori formazione di Montani che ci prova anche con un tiro ad incrociare di Di Benedetto che però non ha fortuna la gara si viderà poi a tratti tra interruzioni per falli e cambi l'agnonese tornerà a farsi vedere dalle parti di Cannella solo al 43esimo quando a Bonchelet prova a rimettere in mezzo un calcio di punizione ma con la difesa del San Nicolò che sbrogli in qualche modo l'ultima occasione è della scuola di Montani con Moretti che però trova Venturini a negargli la gioia del gol il San Nicolò aggancia dunque l'agnonese in classifica e ricomincia nel migliore dei modi un girone di ritorno in cui provare a centrare la salvezza questo è il servizio sulla vittoria del San Nicolò siamo alle pagine del centro per parlare del passo indietro del Nero Stellati Nero Stellati spenti dal Castelfidardo è sempre più in crisi in ombra i nuovi arrivati Azorov e Gasparotto gara decisa nel primo tempo delusione fra i tifosi una sconfitta pesante per la formazione Peligna e trasferta Amara per il Francavilla un pari con polemiche contestato l'arbitro proteste per un rigore contro sbagliato ed il cartellino rosso a zerbo il Fabiano Cerreto trova la rete a un quarto d'ora dalla fine dunque parità in terra marchigiana andiamo a vedere il servizio il Francavilla inizia l'anno con un pareggio allo stadio Aghettoni di Fabriano resta con un po' di amaro in bocca la squadra di Ervese che benché in inferiorità numerica è prima andata vicina al colpo del KO e poi ha incassato la rete dell'1-1 che rimanda all'appuntamento con la prima vittoria del 2018 un peccato per il sodalizio del patron Candeloro senza a mente Fofanai con l'esordio del neocquisto di Cecco posticipato domenica prossima Ervese schiera in avanti il serbo Alexic arrivato dal Taranto in coppia con Zerbo c'è milizia in mediana nel Fabriano c'è Zuppardo in avanti con Peronullo in campo anche l'ex aquilano Ibogio la cronaca dell'incontro parte al minuto 8 quando Romeo e calcio di rigore sul dischetto si presenta Zuppardo che spara alto sopra la traversa i giallorossi rispondono all'undicesimo con milizia dal limite dell'area ma la sua rasoiata esce di un soffio a lato al ventunesimo il Francavilla passa in vantaggio bel pallone di mele che taglia fuori tutta la difesa del Fabriano Cerreto Zerbo tocca con la punta del piede superando Monti la palla si stampa sul palo interno rimbalza oltre la linea di porta ed esce ma il direttore di gara assegna immediatamente la rete tra le proteste dei locali fino alla fine del primo tempo i francavillesi gestiscono il vantaggio senza alcuna preoccupazione dopo due minuti di recupero termina la prima frazione di gara ad inizio ripresa però si complica la gara del Francavilla Zerbo al 53esimo minuto viene espulso dal direttore di gara per un presunto fallo su Tafani rosso diretto per l'autore del gol del vantaggio giallorosso nonostante l'uomo in meno gli abruzzesi si rendono pericolosi al 58esimo con Palumbo che si divora il possibile gol del 2 a 0 su assist di Banegas miracoloso nell'occasione Monti alza il ritmo il Fabriano ma solo al 75esimo minuto riesce a trovare il gol del pareggio sugli sviluppi di un corner Tafani svetta di testa insacca le spalle di spacca l'ultima emozione della gara il Francavilla gestisce le sortite offensive del Fabriano senza alcun pericolo prossima gara al Valle Anzuga domenica prossima con i nero stellati in attesa di conoscere il risponso della gara non giocata con Monticelli sulla quale pende proprio il ricorso del Francavilla se il giudice sportivo non lo dovesse accogliere si provvederà a fissare la data del recupero feste indigeste vastese affondata siamo alla sconfitta pesante per certi versi in attesa allo stadio Aragona dei Biancorossi che soccombono per 4 a 0 con il San Marino una brutta botta per la squadra aragonese che era reduce da 3 mesi di risultati positivi 4 gol del San Marino i Biancorossi cadono dopo 13 risultati utili consecutivi pesa l'espulsione di Iodice ma bisogna dire che il San Marino ha giocato un'ottima gara al 91esimo è mancata la solita determinazione queste le dichiarazioni del tecnico Biancorosso non mi è piaciuta la gestione dei cartellini esami per l'infortunato Viscardi allora andiamo a vedere cosa è accaduto allo stadio Aragona con questa sconfitta casalinga dell'Avastese inizio di 2018 peggiore proprio non poteva esserci per l'Avastese che crolla all'Aragona al cospetto di un San Marino in giornata di grazia e vittorioso con merito a cospetto di una squadra a dir poco spenta un pomeriggio da dimenticare per Camerlengo e compagni dopo un girone di andata da 10 e lode può sicuramente starci con il terzo posto che resta saldamente in mano alla squadra di Colavitto attesa domenica prossima dal derby del Dei Marsi di Avezzano dove i tifosi aragonesi vorranno però vedere una squadra diversa da quella scesa in campo questo pomeriggio senza gli infortunati Viscardi e Cherillo il tecnico di casa schiera l'Avastese con il consueto 4-3-3 in campo dal primo minuto Iarocci al centro della difesa in coppia con Amelio nel San Marino del neotecnico Medri tanti volti noti e giocatori con un recente passato tra i professionisti come Pestrin e Ceccarelli gioca anche l'ex Varese Parma Longobardi panchina per Miglietta che non ha il meglio e che entrerà solo nella ripresa avvio di Contese equilibrato con le due squadre molto guardinghe al 14esimo Amelio perde palla sulla tre quarti ospite lanciando così involontariamente il contropiede sanmarinese concluso da un tiro al lato di 5 il San Marino ben messo in campo dal tecnico ospite concede pochi spazi alla formazione abruzzese al 21esimo si rivede proprio la squadra bianca-azzurra con un colpo di testa centrale da buona posizione di Bugaro che non crea problemi a Camerlengo che però un minuto dopo sulla conclusione secca di Ceccarelli non può nulla con il San Marino che trova il vantaggio la squadra ospite più propositiva dei locali che rischiano poi anche al 24esimo quando Longobardi tira alto dall'interno dell'area aragonese la vastese mai pericolosa cerca di scuotersi incontrando però evidenti difficoltà nella costruzione del gioco e anche nelle finalizzazioni il tabellino della gara vede ancora un'occasione ospite con un tiro di Longobardi che fa correre un brivido al portiere di casa per la vastese piove sul bagnato perché al 43esimo il severo Pascariello di Lecce manda anzitempo negli spogliatoi odice per doppio giallo con la squadra di Colavitto costretta così a giocare tutto il secondo tempo in 10 uomini al 46esimo arriva la prima vera occasione dei padroni di casa ma fall dice no alla conclusione velenosa di Pizzutelli la ripresa si apre peggio di come si era chiuso il primo tempo per la vastese con il raddoppio ospite di Bugaro al primo minuto in contropiede e poco dopo il Tris firmato da 5 con la squadra abruzzese tutta proiettata in avanti una mazzata tremenda per i biancorossi di casa che in 10 avrebbero bisogno di più di un miracolo per riaprire la gara che invece non regala molte emozioni con gli ospiti a controllare il match che vede al 13esimo un colpo di testa al lato di Leonetti e poi noia e sbadigli al 19esimo ci riprova la squadra di casa con una bella punizione di fiore a cui fall dice ancora no poi al 37esimo arriva il poker ospite con 5 che segna così una doppietta facendo partire i titoli di coda del match che termina con il successo degli ospiti per 4-0 e la seconda sconfitta interna stagionale dei biancorossi che all'Aragona avevano perso solo ad inizio di stagione con la capolista Matelica e a proposito della capolista Matelica squadra marchigiana caduta ieri al Mariani Pavone di Pineto il Pineto è da sballo Ciarcelluti gol Matelica al tappeto il tapin del bomber dopo un rigore sbagliato da Mariani regala tre punti ai Biancazzurri e l'aggancio alla zona playoff gongola il tecnico della formazione pinetese Amaolo soddisfatto l'abbiamo avuto ospite ieri sera in trasmissione il presidente del Pineto Brocco e noi andiamo a vedere quello che è accaduto ieri nella vincente gara del Mariani Pavone nel servizio curato da Roberta Di Sante il miglior Pineto nel momento più importante inizio col botto per la formazione adriatica che alla prima del 2018 batte la capolista Matelica costringendola alla prima sconfitta lontano dalle muramiche nonostante i problemi di formazione alla squalifica di Capitan Pomante si aggiungono gli infortuni pesantissimi di Zane e Pezzotti la prova è da grande squadra con Marianeschi all'esordio stagionale e Mariani sugli scudi Chiozzo con Meneghello squalificato piazza Losicco in cabina di regia per poi affidarsi alle solite intuizioni di Gabbianelli coadiuvato sugli esterni da Tonelli e Oliveira a supporto di Bomber Magrassi che al quarto prova subito ad impegnare Mazzocchetti ma la conclusione debole è preda dell'estremo locale un minuto più tardi ancora il centravanti raccoglie in spaccata il cross di Oliveira ma la sfera è a lato la risposta pinetese non tarda ad arrivare al settimo Ciarcelluti se ne va sulla destra e mette in mezzo per esposito con la retroguardia che in affanno si salva in corner ma l'occasione che ha del clamoroso è quella che capita al diciottesimo sui piedi di Mariani che al volo da due passi spedisce fuori la punizione di Marianeschi il Matelica non è quello delle ultime giornate e il Pineto cerca di mettere in difficoltà la retroguardia meno battuta del girone attaccando alto con grande agonismo e il preludio al vantaggio locale che arriva al ventitreesimo ancora una punizione di Marianeschi in area Ciarcelluti viene messo giù e il direttore di gara De Giralmo indica il dischetto Mariani si fa deviare la conclusione sul palo da Cherezovic ma la sfera arriva a Ciarcelluti che in diagonale insacca l'angolino per l'uno a zero la reazione del Matelica è fatta soprattutto di pressione e possesso palla ma non riesce a pungere la squadra di Tiozzo che ci prova da fuori al ventottesimo con Malagò ma Mazzocchetti è attento e al trentaduesimo rischia di incassare anche la seconda rete ma Tomassini sbilanciato impatta alto Prec del Matelica al trentasettesimo ancora sull'asse Oliveira Magrassi ma sulla girata si immola Orlando ultimo sussulto del primo tempo il contropiede di Mariani che fa tutto bene salvo farsi ipnotizzare da Cherezovic nella ripresa in avvio il Matelica alza il baricentro e schiaccia gli abruzzesi nella propria metà campo nel tentativo di recuperare il risultato al decimo Magrassi si porta spastorlando sulla destra ma da posizione defilata calcia alto al ventitresimo il neo entrato a rilevare Tonelli Angelilli prova in diagonale ma la sfera è fuori il Matelica ora continua a insistere ma il Pineto controlla con ordine e autorevolezza la partita senza alcun timore reverenziale al quarantesimo Amaulo effettua un doppio cambio Veroni per l'infortunato Fiumara costretto in ospedale a fine partita e Gragnoli per Tomassini e proprio per un fallo su Gragnoli al quarantatresimo Cuccato viene prima ammonito e poi espulso per proteste lasciando i suoi in dieci negli ultimi minuti di una gara in cui non accadrà più nulla il Pineto può così festeggiare la prima vittoria del 2018 e l'aggancio alla zona playoff con la prima sconfitta esterna del Matelica e la vittoria della Bispetaro si riapre invece un campionato avvincente che regalerà ancora grandi emozioni e alla gioia del Pineto fa da contraltare la delusione dell'Avezzano che vede svanire la vittoria al Pacifico Carotti di Esi nel finale Avezzano che beffe rimontato due volte è bloccato sul pareggio per quanto riguarda la formazione marsicana le reti sono state di Tariuk e Deramo e dunque questo il titolo sulla gara della formazione bianco-verde un pareggio che lascia l'amaro in bocca alla vigilia della formazione alla vigilia scusate del derby che la formazione bianco-verde giocherà domenica prossima allo stadio dei Marsi e che è derby tra Avezzano e Vastese ma noi torniamo alla gara di ieri a Iesi andiamo a vedere le immagini nelle parole e nel servizio di Andrea Costantini L'Avezzano resta in clima natalizio e nella prima del 2018 regala due gol e un pareggio alla Iesina due a due al Carotti con i marsicani incapaci di gestire due situazioni di vantaggio e la superiorità numerica negli ultimi minuti Iesina brava a restare sempre in partita e a portare a casa un punto che fa morale e in parte classifica il tecnico marsicano Giampaolo è privo di Persia crasse lo scolificato menna c'è Tariuk al centro della difesa mentre Bisegna affianca Bianciardi in mediana nel classico 4-4-1-1 molto offensivo nella Iesina seconda panchina per il neotecnico il rosetano Daniele Di Donato che lascia in panchina Trudo e vara un 4-3-3 con Carotti in regia l'ex Atria e Celano Valdez nel tridente con Cameruccio e Pierandrei proprio di quest'ultimo la prima conclusione al terzo minuto pochi minuti di rodaggio e l'Avezzano prende in mano le redini del gioco Tavoni con un colpo di Reni sventa il tiro cross di Pellecchia e poi blocca al nono il sinistro centrale di Cerone Deramo è attivissimo reclama un rigore al dodicesimo poi al quattordicesimo viene atterrato da Cameruccio che si prende anche la munizione punizione calciata da Cerone Tavoni respinge corto e Tariuk in posizione di centravanti in sacca il vantaggio Marsicano 0 a 1 sembra tutto facile per la squadra di Giampaolo Dos Santos sparacchia dal limite quindi al ventesimo si riaccende Deramo che pennella la sua maniera e per un soffio non trova un gol capolavoro il primo tempo dell'Avezzano finisce qui la Iesina si mette in partita e con Cameruccio al ventiquattresimo trova il pareggio che viene annullato per la posizione di fuorigioco attiva di Pierandrei che non tocca ma il suo movimento inganna Lombardi ultima parte di primo tempo molto spezzettata e i marsicani faticano a digerire questo tipo di gare dal 42esimo Parasecoli alza troppo la mira al culmine di un'azione di ripartenza Leoncella che fa calare il sipario sulla prima frazione la seconda si riapre con un cambio ordinato da Didonato Trudo al posto di Sassaroli e Cameruccio portato esterno basso e soprattutto si riapre col pareggio della Iesina Lombardo potrebbe sbrogliare invece continua a portare palla Pierandrei gli soffia la sfera e batte agevolmente Lombardi 1-1 e inerzia della partita decisamente cambiata tanto che al terzo minuto lo stesso Pierandrei per poco non ribalta il risultato il palo gli nega il gol del 2-1 ci prova anche Trudo all'ottavo tiro secco ma centrale blocca Lombardi al dodicesimo momenti di tensione in campo quando Pellecchia tira dal limite con un giocatore di casa Zannini che era a terra l'esterno marsicano viene attorniato dai giocatori Iesini poi torna la calma senza l'uso dei cartellini da parte di Vogliacco di Bari nel momento di massima difficoltà però proprio Pellecchia al diciannovesimo ispira l'azione del nuovo vantaggio della Vezzano serve un pallone per Besana in sovrapposizione cross basso per Deramo che sbuca dalla parte opposta e gonfia la rete difesa da Tavoni 1-2 e sesto gol per il gioiellino bianco-verde la Vezzano torna in controllo anche Pellecchia ispiratissimo e un suo spunto al 34esimo causa il secondo giallo per Parasecoli la cui espulsione lascia in 10 la Iesina Cerone calcia alto la seguente punizione ancora Pellecchia al 40esimo botta mancina alta di un soffio la Vezzano è in totale controllo delle operazioni Mattariuk al 90esimo la combina grossa secondo regalo che la Iesina scarta Trudo serve Pierandrei che di potenza scarica il 2-2 che fa esplodere il Carotti e non è finita perché la Iesina prova nel recupero ad approfittare di uno sbandamento della Vezzano che dal canto suo all'ultima azione ha con Acatullo il match point salva Tavoni per il centro avanti c'è il cartemino giallo per simulazione finisce 2-2 premiata la prestazione gagliarda della Iesina all'Avezzano non resta che fare un grosso mea culpa con il servizio piatta senza reti 0-0 tra San Buceto e Montorio pareggio per 1-1 tra Penne e Miglianico con i vestini costretti a rincorrere e poi la capolista Giulianova domina anche con l'Alba Adriatica e si impone per 3-0 in casa Albense vittoria in esterna della Torrese a San Salvo un altro K.O. per la formazione san salvese con il tecnico Sgherri che è in bilico e poi vediamo anche le altre partite Paterno Cupello 2-1 Amiternina Capistrello 0-2 e Spoltore Martinsicuro 1-2 colpaccio del Martinsicuro con lo Spoltore che si lecca le ferite siamo scusate al campionato regionale di promozione al girone A ventesima giornata Celano Marsica Fontanelle 2-1 Rosetana Pontevomano 0-3 Mosciano Colonia 0-1 Luco Tossicia 4-2 San Gregorio Santomero Palmenze 3-0 Notaresco Piano della Lente 0-3 Alba Montaurei Pucetta 0-2 Nuova Sant'Egidiese Mutignano 1-2 Virtus Teramo Batte Morrodoro 4-1 vediamo il girone B Casalbordino Il Delfino 1-2 Ortona Piazzano Diatessa 3-2 Casolana Castiglione Valfino 2-1 Real Treciminiere Palombaro 5-0 Fater Pescara Passo Cordone 1-0 Villa 2015 Raiano 1-2 Sulmona Sportland Celano 1-2 Val Valdisangro Virtus Pratola 0-0 Bucchianico Fossa Cesia 4-2 Vediamo anche le vediamo se è possibile visualizzare le classifiche comunque vi dico che in eccellenza al primo posto c'è il Giulianova 5 punti di vantaggio sul Chieti dunque Giulianova primo Chieti secondo Siamo al Volley alla Serie 2 al Girone Blu Sieco KO ora serve una reazione Biancazzurri che cadono 3-0 a Bracciano contro il Club Italia Roma sfide decisive ora con Bolzano e Brescia dunque una brutta botta per la formazione ortonese i parziali di questo 3-0 per il Club Italia 25-22 25-23 25-16 vediamo in classifica Siegortona che ha 23 punti poi seguono il Mondovia 22 Taviano 21 Roma 19 Lagronegro 18 Bolzano 16 questo per quanto riguarda il Volley in Serie B l'Altino si arrende al tie-break le Frentane in vantaggio per 2-0 in campo maschile Pescara 3 Travolto a Loreto Marche e siamo al rugby perché il campionato è fermo ma l'Aquila prepara l'assalto alla fase promozione vedete il titolo di pagina 42 parla il pilone Berarducci sono tornato perché qui con i tecnici si cresce la Gran Sasso di Lorenzetti senza più obiettivi programma il futuro con i giovani e siamo quasi in chiusura il basket Roseto sconfitto in un finale da thriller 86-87 per Verona davvero una beffa per la formazione Biancazzura di Paolo Antonio si ha tirato a tempo scaduto dice il coach Rosetano la delusione è forte ma guarda alle prossime partite perché per la salvezza non tutto è deciso le abruzzesi di serie B con il derby che sorride al Teramo il gran derby tra Teramo e Giulianova 70-62 il finale per Teramo L'Amatori non riesce a superare Bisceglie in casa i pugliesi si impongono per 77-67 e vedete nella foto l'ospite di lusso ieri al Pala Elettra di Pescara per assistere alla gara tra Biancorossi e Pugliesi Fabio Grosso fratello di Andrea Grosso giocatore dell'Amatori Pescara nonché campione del mondo con l'Italia e attuale tecnico del Bari dunque presenza illustre di Fabio Grosso al Pala Elettra andiamo a vedere le altre gare di serie B Ortona battuto in casa per 83-66 da Porto Sant'Elpidio Campli colpo a Cerignolo i camplessi che passano per 81-67 in casa della formazione pugliese siamo al ciclismo a Manopello la premiazione della sezione ciclismo con i corridori che si sono messi maggiormente in evidenza nello scorso anno Silvaggi D'Angelo Campigli e Cichella le stelle Axi del 2017 noi siamo giunti al termine con il ciclismo dell'appuntamento di oggi di mattino 6 tornerà domani l'appuntamento con la nostra segna stampa puntuale alle 8 io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi per averci seguito vi do appuntamento alla prima edizione del TG6 come sempre alle 14 grazie e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti